La patata bollente sugli aumenti dei compensi al Consiglio d'Amministrazione di Marche Multiservizi non si raffredderà prima di fine maggio. Ieri la riunione del CDA d'azienda ha previsto la riconvocazione dell'Assemblea dei Soci per la fine del mese. Un'assemblea richiesta dal Presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti che avrebbe per oggetto la revoca dei maxi compensi che hanno toccato picchi di rialzo lordo fino al 68% nel caso dell'amministratore delegato Mauro Tiviroli e del 57% nel caso dello stesso Presidente Pierotti. Il tutto con l'aggiunta di indennità ai consiglieri d'amministrazione passate da 9 a 15 mila euro annui. Un caso politico che ha fatto discutere nell'ultima settimana col Presidente della provincia Giuseppe Paolini nel mirino in quanto ispiratore di un'approvazione di aumenti di 112 mila euro annui complessivi formalizzati dall'Assemblea dei Soci del 20 di aprile. Un ok che era arrivato con un pieno di voti di 50 sindaci a favore ad eccezione dell'astensione dell'assessore comunale di Montelabate Pierluigi Ferraro. Ieri il CDA di Marche Multiservizi è stato preceduto da una lettera inviata allo stesso Consiglio dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini che ha confermato il suo parere favorevole agli aumenti ma al contempo ha chiesto l'annullamento della delibera che gli ha approvati in quanto la discussione viziata dalla presenza in aula dei beneficiari degli aumenti. Per Gambini si è trattato di una inadempienza che ha condizionato interventi e voti dei soci. Ora l'Assemblea chiarirà se ci sarà o meno un dietrofront da quanto deliberato il 20 aprile.